buongiorno a tutti allora 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 europa league e conference league schedine bollettine del gigione partiamo subito con le schedinazze europa league similia manchester unite dall'andata è finita 2 a 2 ci mettiamo un bel 1 2 union berlino bayern leverkusen all'andata è finita 1 a 1 e ci mettiamo anche qui un bel 1 2 sport in lisbona juventus all'andata è finita 1 a 0 per la juve metto un x fisso roba fai e nord all'andata è finita 1 a 0 per il fai e nord metto un 1 fisso proseguiamo con la conference league fiorentina lech pozzano 1 a z underlet 1 lizza basilea 1 west ham ghent 1 comunque all'andata ghent west ham è finita 1 a 1 la fiorentina ha vinto 4 a 1 in polonia basilea e nizza avevano fatto 2 a 2 e l'anderlet aveva battuto 2 a 0 2 a 0 la zeta proseguiamo con la schedina alternativa partendo dalla europa league similia manchester united gol a mio rischio è pericolo union berlino bayern leverkusen gol a mio rischio è pericolo sport in lisbona juventus over 1 e mezzo roma feienor over 2 e mezzo proseguiamo con il quarto di finale di ritorno della conference schedina alternativa fiorentina lech pozzano over 2 e mezzo a z underlet over 2 e mezzo dizza basilea gol west ham ghent over 1 e mezzo andiamo a vedere le bollettine del giugno allora 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 ho scelto queste quattro partite roma feienor di europa league a z underlet di conference nizza basilea di conference west ham ghent di conference quindi partiamo subito con la schedina delle fisse naturalmente voi dov'è che siete obbligati a mettere solo fisse deve mettere qualche doppia dove vi fa libidine anche perché la quota con quattro fisse è da doppia libidine roma feienor 1 a z underlet 1 nizza basilea 1 west ham ghent 1 con 5 euro se ne vincontro 61,82 bollettina numero 2 bollettina numero 2 roma feienor multigol casa 2,4 az underlet multigol casa 2,4 nizza basilea multigol casa 2,4 west ham ghent multigol casa 2,4 con 5 euro se ne vincontro 60,40 anche qui 1,3 1,4 vedete voi come gestirvele io sono andato giù di mannaia come sempre bollettina numero 3 con due opzioni roma feienor 1 x piove a z underlet 1 x piove nizza basilea 1 x piove west ham ghent 1 x piove con 5 euro se ne vincontro 22,28 sono pochini opzione number one roma feienor 1 x piove a z underlet 1 x piove nizza basilea 1 piove west ham ghent 1 x piove con 5 euro se ne vincontro 29,38 non vi bastano c'è l'opzione 2 roma feienor 1 x piove a z underlet 1 x piove nizza basilea 1 piove west ham ghent 1 piove con 5 euro se ne vincontro 39,88 gli over naturalmente sono over 1,5 bollettina numero 4 roma feienor gol ospite a z underlet gol ospite nizza basilea gol ospite west ham ghent gol ospite con 5 euro se ne vincono 33,81 inutile dirvi che questa è la bollettina che me fe sempre libidine proseguiamo con la bollettina numero 5 roma feienor gol piove a z underlet gol piove nizza basilea gol piove west ham ghent gol piove con 5 euro se ne vincontro 47,91 ma l'unica partita in cui il gol piovere favorito e non di tantissimo e a z underlet gli altri tendenzialmente è favorito il gol piove anche se non di molto quello meno favorito è roma feienor c'è una differenza di 0,45 a favore del gol piove le altre sono tutte intorno addirittura west ham ghent c'è una differenza a favore del gol piove al di 0,05 mentre invece inizia basilea il gol piove è favorito per 0,35 come vi dico sempre gestitevela voi o vi giocate solo a z underlet gol piove in una bolletta per alzare la quota o vi giocate come ve l'ho fatta io ma vi giocate due euro per vincerne circa 60 o vi giocate a z underlet gol piove gli altri do gol piove me le gestite come preferite infine la bolletta folle roma feienor 1 più gol a z underlet 1 più gol vizza basilea 1 più gol west ham ghent 1 più gol con 2 euro se ne vincontra 137,01 con 5 euro 842,54 ma siccome che tutti i gol non sono favoriti bolletta alternativa roma feienor 1 più 1 gol a z underlet 1 più 1 gol vizza basilea 1 più 1 gol west ham ghent 1 più 1 gol in questo caso con 2 euro se ne vincontra 93,60 con 5 euro 234,01 oggi il gigione è stato iper veloce super veloce stra veloce così dobbidite che sono prolisso eccetera eccetera vi saluto vi ringrazio adesso lo carico subito in modo che per le quattro e mezza cinque bene un quarto è online e ci vediamo alla prossima ciao